Più decessi causati dall'influenza e questo preoccupa molto i responsabili della Sanità Veneta. Le vittime sono salite a 23, un numero maggiore rispetto alle stagioni invernali passate. Il virus, tra l'altro, presenta una particolare virulenza per i soggetti a rischio. Tra i decessi abbiamo avuto solo una bambina di due anni che è deceduta per influenza. Tutti gli altri decessi riguardano soggetti adulti, però soggetti giovani, infatti abbiamo una media che è intorno ai 60 anni, 63 anni. Comunque molti soggetti, 50 anni, sono stati interessati in maniera grave e pertanto interessa adulti. Questo può essere collegato al fatto che ci sono state meno vaccinazioni? Secondo me sì, è chiaro che una minore copertura immunitaria della popolazione porta ad una più ampia diffusione del virus e quindi ad una maggiore esposizione. Questo era quello che noi temevamo ed è effettivamente quello che sta succedendo. È previsto un picco a febbraio? Stiamo osservando perché la curva dell'incidenza della nostra regione è leggermente differente rispetto a quella nazionale, cioè cominciati i casi e l'impennata dell'incidenza è iniziata prima rispetto a quella nazionale e in quest'ultima rilevazione abbiamo visto che c'è una leggerissima diminuzione per quanto riguarda gli anziani e l'età adulta, mentre continua a crescere per i bambini da 0 a 14 anni. Oggi c'è stata la riunione degli stati maggiori delle USLE come ordine del giorno alla prevenzione. Diciamo che il tema di questa mattina sono state le vaccinazioni e il fatto che non siamo più abituati a pensare che le malattie infettive possono rappresentare un rischio reale sia in termini di morbosità che di mortalità, ma di malattie infettive se non le combattiamo le avremo sempre. Le vaccinazioni sono il mezzo più efficace per prevenire le malattie.